Promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese per sostenere la competitività del sistema produttivo. Questa è la missione di Innovab, Stazioni Sperimentali per l'Industria, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano. Innovab copre tutto quanto il tema dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della ricerca, tutti quei temi avanzati necessari alle imprese per poter competere con successo sui mercati internazionali. Con l'incorporazione poi delle stazioni sperimentali abbiamo aggiunto anche servizi di analisi, prove, controlli. Abbiamo implementato poi dopo i nostri laboratori, quindi con altri servizi di ricerca. Partecipiamo a dei gruppi di lavoro per identificare le norme guida in diversi settori e facciamo poi dopo naturalmente tutte quelle attività tecnico-scientifiche che possono aiutare tutte quante le imprese. Servizi e strutture dedicate alle esigenze delle imprese del settore cartario, tessile, dei combustibili, degli oli e dei grassi. Ma non solo. Innovab è in grado di offrire servizi di interesse comune per le imprese di ogni settore produttivo. Innovab in questi anni ha operato per cercare di avere una forte integrazione tra le diverse ex stazioni sperimentali che avevano dei clienti ben delineati. Cerchiamo quindi di mettere a massa comune tutte quante le loro esperienze. Cerchiamo, soprattutto in questi anni abbiamo investito per migliorare i nostri laboratori, per far sì che possano essere sempre più a servizio delle nostre imprese. E ai servizi già disponibili se ne aggiungeranno di nuovi nei settori trasversali delle materie prime da fonti rinnovabili e della sicurezza e ambiente. Sicurezza ambiente si occupa di supporto delle imprese su tematiche quali sicurezza intesa come individuazione dei pericoli connessi con la realtà produttiva chimica essenzialmente del paese, dunque problematiche legate a stabilità termica, a reazioni fuggitive e lavorazioni che sono poi a valle dell'attività produttiva, essiccamento e quant'altro e chiaramente tutto il discorso ambientale, quindi di impatto ambientale, in analisi di caratterizzazioni ambientali. Il tema delle materie prime da fonti rinnovabili è sicuramente importante perché su questo tema si va a costruire una filiera produttiva generica da parte di qualsiasi voglia azienda basata su un qualche cosa appunto di rinnovabile, quindi potenzialmente infinito in quanto a processo produttivo. Noi possiamo senz'altro essere a fianco delle imprese in un ipotetico percorso che parte dalla caratterizzazione della materia prima da fonti rinnovabili fino alla sua applicazione in un processo produttivo a quell'azienda interessata. Per maggiori informazioni visite il sito www.innovab-ssi.it